Il centro Leonardo di Prato è 100% fibra grazie ad Estracom, un modello di banda oltralarga che arriva fino ai singoli uffici indispensabile per le smart city. Centria, la società di distribuzione del gas di Estra, raggiunge il quarto posto in Italia per la sicurezza delle reti e la qualità del servizio. Fino al 25% di risparmio sui consumi domestici grazie alla sperimentazione di Estra e di Edilcop su 15 case popolari del progetto europeo Encerticus. Con Estra Kitchen, la gara ai fornelli su Facebook, Estra vince il Grand Prix internazionale di eventi e relazioni strategiche.